Entro venerdì di questa settimana il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nominerà il vicesindaco. Lo ha riferito lo stesso Manfredi a margine della presentazione del programma di Restate a Napoli. Rispetto alle indiscrezioni che danno come in pole position l'assessore Laura Lieto, Manfredi non ha né confermato né smentito, ma ha confermato la presenza femminile in giunta. Quando l'avrò nominato leggerete il nome di chi avrò nominato. Intanto è stata presentata la Kermes, la grande manifestazione che sin dalla sua prima edizione del 2020 ha riscosso un grande successo in termini di gradimento e partecipazione. La rassegna promossa dal comune di Napoli è rivolta ai cittadini e visitatori della città, vanta della direzione artistica di Lello Arena. Il terzo evento che noi presentiamo coprirà la settimana di ferragosto in piazza Plebiscito con tantissimi spettacoli gratuiti per i napoletani e per i turisti che coprono un'ampia fascia di gusti e di generi. Quindi musica internazionale, musica nazionale, musica tradizionale. È un modo per accompagnare chi vive la città, chi resta in città, ma anche chi vive la città da turista. Oggi si presenta un momento veramente importante grazie all'Arena, grazie al Sindaco. è un modo per coinvolgere la città, per dare contenuti alla città ed è anche un modo per portare avanti pian piano il progetto di Napoli Città della Musica insieme a tante altre arti perché è un progetto trasversale di inclusione e di contaminazione.